Amici sportivi, un saluto! Un saluto da Fabrizio Agostini e benvenuti alla Palameucci di Aprilia, quinta giornata del campionato di Serie D, Girone A, in campo PR 2000 Aprilia e Cosmos Ardea. E allora Alami, prova al sinistro, palla sul palo, dentro per lo stesso Paterniani, poi perde palla ingenuamente, Paterniani occasionissima, Candia, spazza via, poi Di Giorgio si ritrova tutto solo, e mette dentro il vantaggio, 1-0 per i Cosmos Di Giorgio, ancora Paterniani, ancora destro, ancora ribattuto, vince il rimpallo, Paterniani diagonale fuori. Poi Argentini, Argentini ruba palla, palla sul palo, Catalano, dentro per De Giudici, subito raddoppiato De Giudici, destro, palla sul palo, Paterniani, Paterniani, pallone che colpito con la mano forse, Paterniani, poi ancora un salvataggio, parte dei giudici, tiro palla fuori, poi Di Giorgio, Di Giorgio, pallone per Iacobacci, destro, la parata di De Santis per De Rossi, prova il lancio per Rossi, tutto solo, Ussia, raddoppio dei Cosmos, ancora presa alle spalle la difesa della PR, Alamo, pallone per Ussia, si accentra Ussia, palla sul sinistro, Margari, in due tempi, prova a scardinare la difesa dei Cosmos con tiri dalla distanza, ma ci prova lungo la respinta di De Santis, poi il contropiede Pasquale, l'uscita di Margari, che salva tutto, pressato Pasquale da Gian Porcaro, poi il break di De Filippis, De Filippis, occasionissima per De Filippis, che spedisce fuori, Catalano per De Giudici, prova il numero De Giudici, De Giudici, va via da solo poi, il miracolo di De Santis, poi cambia, dentro per Di Giorgio, Di Giorgio, il diagonale, si ricomincia da Paterniani, dentro De Giudici, destro, palla sul palo dopo la deviazione decisiva di De Santis, e allora cambia, cambia ancora Pasquale, pallonetto, palla fuori, ancora Paterniani, porta palla, alto mancino, la rete di Giacobacci, che sfonda questa volta, accorcia le distanze, dentro per De Giudici, controllo De Giudici, chiuso da due uomini, poi Paterniani, palla fuori, nuovo possesso per l'APR, che sta per stringere i tempi, poi pallone in rete, Longo, pareggio raggiunto, De Giudici, mette in mezzo, tap in di Longo, due pari, via sull'automancino, non c'è più tempo, finisce questa sfida tra PR 2000 Aprilia e Cosmos di Ardea, a due a due, da Fabrizio Agostini, un saluto e a risentirci al prossimo appuntamento.